Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' la mia belle medallion, la mia belle mezzamano anche. Guardate su maggiore 2, hanno la mia medallion. Maggiore 3 hanno la mia medallion, la mia medallion. La mia medallion è davvero la mia medallion. E' la mia medallion, questo è un'altra parte di effetto. E' la mia medallion, la mia medallion è molto buona. E' una medallion è molto buona. E' un'altra parte di cui mi ha presentato... E' una squadra di cui è un'altra parte che... Alla passata... Ok, buona il rave. E' una cosa? Passiamo il titolo per il IASG di Fortnite Perciò che c'è? Grazie a me! Grazie Tino per il rai, hermanito! Chi è il più faccio? oh my yo victory von doom you even have a different victory screen that's sick that's a five percent chance that is the rare dr doom island event yeah bro how do i shoot the guy bro hello like yeah what did they see do again did you leak our sex tape cheese in the building big cheese aviv what bro can i see your neck what is that bro you know what it is bro stop what is it seriously you said he went paintballing ain't wrong what the fuck you doing jeez there we go yeah i think i think o i think come ti ceric se non si può subire ah sì 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 ooooh questo è stato bello ok ok continuiamo in stanza O VENO! 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 questo ti serve? mettere i burbucati ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti i bambini i bambini questo forse è un gioco non diventa è un gioco è un gioco è staglio si tratta segno è che il gioco se se è proprio il minuto bolto no just threw him on the floor he è proprio in 2 volte ma come un tank si è stato stato i go for forecast i just run away with the card or i drop it and that's not even something i would have even thought of but he does it and so those